Quanto sono attive le aziende in Italia nello sviluppo di strategie e piani legati alla sostenibilità? Dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio privilegiato, Marshall McLellan, direi molto. Noi monitoriamo circa un milione di aziende con più di tre addetti presenti sul territorio nazionale che impiegano il 91% dei dipendenti sul totale dei lavoratori in Italia. Ebbene, oltre il 65% di queste aziende hanno adottato delle politiche rigorose volte al miglioramento del benessere dei propri lavoratori, al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e alla minimizzazione degli impatti ambientali. L'attivazione delle aziende, tuttavia, a volte non è sufficiente. Nel senso che, oltre a quella, è necessario dotarsi di un sistema di declinazione della strategia in obiettivi, di tempistiche definite e soprattutto di indicatori di misurazione, quindi di KPI, che consentano effettivamente di andare a monitorare il miglioramento. Anche su questo tema, dal nostro osservatorio, notiamo come, in particolare, le grandi aziende quotate italiane, quindi quelle appartenenti al Fuzimib o al Midcap, hanno negli ultimi anni incrementato in maniera esponenziale l'utilizzo degli indicatori ISG all'interno dei sistemi di incentivazione, sia di breve che di lungo termine, e quindi delle dashboard degli amministratori delegati e della loro prima linea. In particolare, i dati appena usciti sulle politiche 20 e monitorati dalle relazioni sulle remunerazioni 21 vedono come addirittura il 79% delle aziende Fuzimib, contro un 69% dello scorso anno, utilizzano indicatori ISG nei loro sistemi di incentivazione a breve termine. E il 54% sempre di queste aziende utilizza indicatori ISG all'interno anche dei sistemi di incentivazione a lungo termine, contro un 44% del 2019 e un 35% del 2018. Gli indicatori largamente più utilizzati entrano nella sfera ambientale, quindi della E, della environmental, e del social. In particolare si parla di riduzione di emissioni, riduzione di infortuni e quindi enfasi sulla sicurezza, ma poi su tutto il tema social il grande trend che vediamo in particolare quest'anno e in parte anche l'anno scorso è l'identificazione di indicatori legati alla Diversity, Equity and Inclusion, quindi alla DINI, proprio a minimizzare le differenze di genere presenti all'interno delle organizzazioni. Così come, altro trend rilevante, l'inserimento di indicatori legati all'engagement dei dipendenti all'interno delle organizzazioni, in quanto il capitale umano è visto come un asset fondamentale per mantenere la sostenibilità delle aziende nel lungo termine. Come Mercer aiuta i propri clienti rispetto al tema della declinazione della sostenibilità? Fondamentalmente su due assi fondamentali. Il primo è quello dello sviluppo di strategie e politiche di People Sustainability, e quindi proposizione e sviluppo di Employee Value Proposition, ottimizzazione del costo del lavoro, e anche e soprattutto, proprio in questi ultimi mesi, analisi di Diversity and Inclusion, progetti di gender gap. La seconda direttrice fondamentale è quella della declinazione delle strategie di sostenibilità nella scorecard degli amministratori delegati, quindi nell'individuazione dei indicatori ISG che siano rilevanti, adeguati e materiali. E quindi non è sufficiente un benchmark che ci dice cosa fanno le altre organizzazioni, ma è fondamentale un'attenta analisi del business e della situazione di business attuale e futura per poter identificare gli indicatori più rilevanti rispetto al tema della sostenibilità.